Prosegue la maledizione dell'Avezzano con le formazioni sarde, con la terza sconfitta consecutiva che fa suonare l'allarme in casa marsicana dopo l'ottimo avvio di campionato e così dopo il Muravera e la Nuorese anche il Latte Dolce Sassari conquista l'intera posta al cospetto dei marsicani per l'occasione oggi in maglia arancione, apparsi piuttosto spenti ma soprattutto spuntati, una cosciente delusione per i tifosi avezzanesi che pure avevano sperato in un riscatto dei propri beniamini che però non è arrivato. Al settimo il primo acuto locale di Aquino che servito in aria tira però debolmente fra le braccia di Garau, passa un minuto e tocca a Padovani con un pallonetto far correre un brivido alla difesa sassarese, il canovaccio sembra ben delineato dei primi minuti con la squadra di Pino Tortora a fare la gara durerà però poco. I marsicani in campo con una inedita maglia arancione spingono senza però scoprirsi, al decimo però si vedono gli ospiti per la prima volta con un tiro insidioso di Palmas che costringe Lewandowski a salvare in calcio d'angolo. I marsicani spingono ma al ventiduesimo arriva il vantaggio ospite grazie a Del Rio che di testa sugli sviluppi di un angolo approfitta di un'uscita avventurosa dell'estremo marsicano mettendo il pallone in rete. Passa qualche attimo c'è un grosso spavento con l'infortunio dell'attaccante ospite Luca Scogliamiglio che resta a terra per un paio di minuti prima di essere caricato su una barella e trasportato all'ospedale di Avezzano per una sospetta rottura del gomito. Dopo uno stop la gara riprende con l'ingresso in campo di Galante al posto dello sfortunato compagno. La formazione ospite non si accontenta e al 34esimo con un euro goal in rovesciata di Palmas trova il 2 a 0. Dagli spalti piove qualche fischio all'indirizzo dell'Avezzano che ha il merito di non mollare trovando così al 37esimo la rete del 2 a 1 grazie a menna che di testa sugli sviluppi di un corner salta quasi indisturbato mettendo alle spalle dell'incolpevole Garau. Gara riaperta con i padroni di casa che iniziano a stringere da sedio l'area di rigore ospite. I biancazzurri isolani con un po' di difficoltà riescono a reggere l'urto anche se al cinquantesimo menna ancora di testa chiama Garau al miracolo in calcio d'angolo prima del doppio fischio di D'Angelo di Ascoli che manda le due squadre negli spogliatoi sul 2 a 1 in favore dei sassaresi. Nella ripresa inizio shock per l'Avezzano che al primo minuto subisce la terza rete ancora ad opera di Palmas con Lewandowski beffato anche dalla deviazione di un compagno. Per gli arancioni un colpo durissimo al cospetto di un latte dolce bravo a chiudersi. Al tredicesimo ci prova per l'Avezzano Aquino che però allarga troppo la mira spedendo il pallone fuori. Alla mezz'ora viene poi allontanato dalla panchina dell'Avezzano per proteste il tecnico marsicano Pino Tortora con i minuti che scorrono i veloci e con gli ospiti che senza strafare riescono a portare a casa i tre punti regalando all'Avezzano un altro pomeriggio da dimenticare e al novantunesimo squadra marsicana sotto la nord a colloquio con i tifosi che sperano in un pronto riscatto domenica prossima Sant'Eodoro ancora contro una formazione sarda. Ma è successo quello che nel calcio è meraviglioso c'è l'imprevisto l'imponderabile e il calcio è bello per questo bisogna accettarlo sia quando le cose sono a favore tuo sia quando sono contro. Vedere quello che è successo oggi non capita tutti i giorni, dei gol incredibili, prudezze impressionanti. Noi a fronte di 30-40 situazioni da rete siamo riusciti soltanto a farne uno. Il calcio è fatto di queste cose, bisogna accettare e andare avanti. Ma io credo che sto 3-1 venuto dopo due minuti abbia un pochino moralmente dato fastidio ai ragazzi. A noi ci sono veramente tre punti importanti perché la partita è stata dura, noi comunque siamo anche un po' in una situazione di formazione un po' d'emergenza perché abbiamo perso Andrea Usai, abbiamo Luca Ruggio, Carlo Piga, Francesco Panai e Mattia Spano. Ci sono quattro titolari importanti e quindi oggi ci siamo venuti anche un pochino rimaneggiati però con grande organizzazione. Abbiamo preparato la squadra, la partita in modo molto meticoloso, sapevamo a che cosa andavamo incontro e devo dire bravi ai ragazzi. Insomma è stata meritata però non è stata facile assolutamente. Avezzano è una squadra importante.